Con la pubblicazione online della tesi di Chiara Tavella, contributo alla biografia letteraria di Santorre di Santa Rosa, una commedia inedita, vincitrice del premio Gianni Oberto 2012, si dà il via alla serie di testi rilasciati in formato e-pub dal Consiglio regionale del Piemonte. E-pub, abbreviazione di Electronic Publication, pubblicazione elettronica, è uno standard aperto specifico per la pubblicazione di e-book. In pochi anni dalla sua nascita, l'e-pub è divenuto uno dei formati più diffusi del mondo dell'editoria digitale. La pubblicazione è disponibile sul sito internet del Consiglio regionale.